Bella raga e siamo qui oggi a questo nuovissimo evento di X Village Benvenuti in Kiwi E siamo qui oggi a questo nuovissimo evento di X Village Oggi andremo a fare un po' di interviste a un po' di ospiti A vedere un po' di bancarella, a fare un po' di domande a chi c'è sta a lavorare e cosa stanno a fare qua Va bene ragazzi, ci vediamo tra poco E ricordatevi, aspetta, aspetta, andò vai Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, fa tutto il coso che dovete fare Ma non fate mai, forse stavolta, ya famo Eh va bene ragazzi, ci vediamo tra poco E siamo qui con... Fabrizio E cosa state facendo qua? Noi facciamo parte di Italia in Gioco, che è una società che si occupa di organizzare eventi sul territorio Di gioco di ruolo, da tavolo, dal vivo, come si stanno prendendo a spadate dall'altra parte Organizziamo eventi con case editrici, autori Siamo nati l'anno scorso durante il lockdown Abbiamo provato a fare degli eventi online Hanno avuto molto successo e abbiamo deciso di fare un passo in più E cercare di far diventare una passione, un lavoro E devo essere sincero, da qui a un anno di nostre soddisfazioni ce ne stiamo portando avanti Quindi fate eventi dal vivo anche? Sì, 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 facciamo eventi Andremo a partecipare anche al Play di Modena, a Lucca Più che altro ci piace definirci un network Perché collaborando con case editrici e quant'altro Ci occupiamo di anche rebranding, gestione social, creazione siti Poi abbiamo grafici, illustratori Abbiamo creato un network a 360 gradi per il mondo ludico Quindi sui social come vi trovano? Con Italia in gioco Siamo su Twitch, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, sito Dappertutto, dappertutto noi ci siamo Ah ok, ok, allora mi raccomando ragazzi, seguite Italia in gioco Grande, grande E siamo qui con? Alessia Alessia, che state a fa' qua? Siamo due artisti, io e il mio ragazzo ieri in Cittadu Ah ecco, mi hai detto due artisti Dicevo due, che nere Ah eccolo, ecco, viè qua, viè, viè qua, viè Che te faccio pure attente, viè, siete te qua, viè Allora, ah, abbiamo fatto un po' per salottina Allora, dicevi tu come ti chiami? Alessia Fabio Fabio, ok, dicevo, che state a fa' qua? Abbiamo praticamente iniziato da manco un annetto a fare il nostro brand Si chiama Arenky Tattoo Facciamo adesivi, magliette, stampe Ambedio, beh, sta bello a te Vedi questi adesivi, ma li fate voi, li fate? Sì Ambedio, e quindi come vi chiamate sui social? Arenky Tattoo Arenky Tattoo Ma li fate tutti e due insieme? Oh, ok, ma di dove siete ragazzi? Di Roma Di Roma? Ma partecipate anche ad altre fiere, tipo Romics, Lucca Speriamo Oh, come speriamo? Quello stiamo, noi ci stiamo puntando a quello Ah, state puntate a quello, perché da poco avete iniziato Ah Va bene ragazzi, quindi, come chiamate? Arenky Tattoo Arenky Tattoo Seguite ragazzi, Arenky Tattoo E siamo qui con Daniele Daniele, cosa state facendo qua? Beh, stiamo esponendo Quelle che sono le nostre creazioni Augurandoci che vengano apprezzate E' la prima volta che partecipate a questo tipo di eventi? Beh no, sono circa 15 anni Qui a Ostia è la prima volta Anzi è la seconda, perché la prima è stata una settimana fa Ah, quindi non siete di Ostia, non siete di qua Di dove siete? Ciampino, Ardea, Pisana Ah, quindi vabbè, comunque queste zone qua state Ah, ho capito, ho capito E quindi cosa vendete in questo stand? Vedo t-shirt Magliette, t-shirt, mousepad Quelli che sono dei gadget legati al mondo dei manga e degli anime Gli anime giapponesi Ah, ho capito, ma partecipate anche a Romics per caso? Sì, sì, da sempre Ah, però Romics, Lucca, tutte le fiere diciamo Addirittura? Pure Lucca ci ha andato Partecipiamo da Parigi a Palermo Eh, addirittura Senti, ma come vi trovano a voi sui social? C'avete un social, una pagina Facebook, qualcosa? La nostra curatrice, che lei vi può spiegare esattamente dove siamo, dove non siamo Dove sei la curatrice? Dimmi, dove state? Instagram, Facebook, abbiamo dei account nuovi, appena aperti Ci trovate come iLovePins E spediamo in tutta Italia tranquillamente Facciamo personalizzazione di qualsiasi prodotto che vedete sul tavolo E quindi, I love, I love Pins Come spilla? Amo le spille Ah, amo le spille in inglese Vabbè, io non sono acculturato Maccheroni, inglese, maccheroni, che love Pins, ancora ci arriviamo Va bene Se io amo spille, ti dicono, ma chi sei? I love Pins Eh, hai capito? Ma i sa, è tutta un'altra cosa Fa più figo, diciamo Va bene ragazzi, seguite, I love Pins E siamo qui con Bossalino a Milaglio Chizzaro Bossalino, ma che ci fai con sta spaduna, zi? Eh, è tanto distintivo Il personaggio crea spade utilizzando i fotoni Utilizzando? I fotoni che compongono il suo corpo Ma i fotoni sono le foto grandi Allora, che ci fai qua, insomma? Beh, ho visto un evento di gattoni Sono appassionato di gattoni Questo è il cosplay preso da One Piece Una variante, non è quello ufficiale Perché quel lato ha fatto un po' caldo Cantavano anche i gazzoni dei gattoni animali Con cui sono cresciuto Quindi a questo punto ho detto Ma sì, veniamo, alla fine Sono cose che mi interessano E tu come ti chiami? Matteo Matteo C'hai un social dove ci sta, insomma? No, ho un pagina Facebook Gentile Matteo e basta Poi vi faccio parte del gruppo di cosplaya di One Piece Su tutta Italia Anche lei ne fa parte Ah, eccola Fa vedere, fa vedere a lei Fa vedere Fai a vedere E lei come si chiama? Alessia 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 Alessia, ok Puoi venire pure tu qua, Alessia Con... Con se vergogna, raga È timidona, è timidona Eh vabbè, diciamo Quindi vai anche... Andrai a Romics? Eh sì, ci ritorno Anche col gruppo C'è un mio appuntamento Oh, per forza Fammi vedere la spada Sì, a po', posso... Non vedi Non si vede tanto Ma si illumina Che si vede? Allora, raga Non si vede Però si illumina Posso assicurare Che un po' Se si vede illuminato Dai, ecci Ci vediamo Alla prossima Allora, ragazzi Siamo qui con... Le Corecara Come scusa? Corecara Made Caffè Oh, e tu sei? Io sono Made Melody Made Hina Io sono Meijun Meidaki Meidrei Oh, e che state a fa' qua, raga? Eh, niente Siamo qua per portare Un po' di colore Di vivacità E di gioia Nei cuori delle persone Ma soprattutto? Di gioia Nei cuori delle persone Di gioia, eh? Di gioia Proprio così Zioia Di gioia Ok, quindi state... Ma che fate su sto banchetto, raga? Fatemi capire Adesso, adesso piano piano Lo allestiremo E noi abbiamo tantissimi giochi I giochi I giochi I giochi Per far divertire I nostri co-regazzi I giochi Si possono vincere Dei fantastici Premi Oh, ma che... Ma ce sta un bacetto In tasto premio, raga? No, però c'è O un cuore di Made Melody O un gatto di Made Ray Oh, eh, va bene lo stesso Dai, ecci, dai Oppure... Oppure il sorriso della maid Oh, chi? Chi sceglie? Tu? Per sorriso Per sorriso Dai, ragà! Speriamo che Ben Tadento ci sponsorizzi presto Eh, vai, vai, ci stiamo, dai, ci stiamo Ragazze, ci vediamo alla prossima Ciao, belli! E siamo qui con... Ivan Ivan, che è stata a fa' qua? Allora, noi abbiamo uno stand Di vendita di gadget Pop Action figure E tanta roba nerda Alla fine Ma, senti una cosa Vedo che c'è la maglietta di Goku Eh, sì Ti piace Dragon Ball? Eh, lo seguivo quando ero bambino Quindi, sì, lo amo È uno dei miei... Non è il primo anime Però è uno dei miei preferiti Ah, ecco, lo siamo in due Siamo Eh, no, io preferisco più Vegeta Io sono più per Vegeta Partecipate, hai detto, ad altre fiere Tipo queste? Sì, sì, sì Noi, allora, ogni mese Partecipiamo a un mercatino Il mercatino giapponese Che si farà il prossimo 11-12 settembre Alla città dell'altra economia Noi partecipiamo a tanti eventi Abbiamo partecipato anche Il mese scorso all'Ostia Comics Però Come vi chiamate? Noi siamo Fra mille ce n'è Fra mille ce n'è Quindi ci siete su? Facebook e Instagram E basta? Eh, sì Al momento sì Poi abbiamo anche il negozio su eBay Ah, ecco Ce l'hai il negozio su eBay Ah, ecco, vedi Che si chiama? Fra mille ce n'è Sempre Fra mille ce n'è Sempre? No, no Fra mille ce n'è Fra mille ce n'è Fra mille ce n'è Senza sempre Fra mille ce n'è Ok, raga Quindi dicevamo Tu ti chiami? Ivan Ivan Sei con? Con chi? Con chi? Con Fapiola No, è la mia È la mia compagna E anche la mia socia La socia Esatto Vedi, vedi Allora, dai Buon lavoro E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi E siamo qui Attenzione Con un ospite Speciale Fammi attenzione Raga Siamo qui con Francesco E chi sei? Francesco Sono uno dei co-organizzatori del posto Ho portato i contenuti di questo evento qua Però è bello vedere che dopo una settimana dall'Ostia Comics si è creato un bel evento Ecco, corollario di Cristiani d'Avena Però ecco, un bel evento a tema E sempre cosplay, animazione fantasy, medievale, botte, GDR cartacei dal vivo Tutto, c'è tutto ragazzi Dovete solo venire qua Aspetta, scusa un attimo Aspetta, andiamo piano Tu hai detto Osteacomics Perché? Che c'entri con l'Osteacomics tu? Eh, vabbè Ho organizzato anche quello Però credo che non Ah! Non è un spoiler E' uno spoiler No, no, no Ah, quindi Emanuele che è il co-organizzatore che sta lavorando adesso Eh, vabbè Non lo andiamo a disturbare Non lo andiamo a disturbare ma lo salutiamo Vabbè Quindi se anche tu hai organizzato anche l'Osteacomics di qualche settimana fa Cosa ne pensi di questo evento di oggi? Penso che sul decimo municipio qualcosa di così bello non si vedeva da un po' A partire dall'Osteacomics ma anche appunto oggi che è una sorta di follow up Possiamo chiamarlo così Però ecco, non si vedono da un po' di queste cose E posso dire che questo tipo di cultura nerd pop si lega benissimo ecco Con la musica come è stato con l'Osteacomics con l'underground culture Quindi con graffiti, skateboard Quindi l'unione fa sempre la forza La bellezza sta sempre in questo secondo me Ho capito Ha organizzato, organizzerai altri eventi senza fare tanti spoiler? E si spera nonostante settembre sia insomma piuttosto complicato Se non adesso forse a Natale Spoiler Dai, 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 dai che ce ne siamo Va bene, grazie per aver organizzato l'Osteacomics e anche questo evento Grazie a voi che ci seguite e grazie a voi che siete qua ragazzi Veramente grazie Va bene, grazie a te, ci vediamo alla prossima Ciao belli E siamo qui con Vic Catra Aspetta, aspetta Catra Catra E Vic Vic, ok, ma che è stata a fare con sto bastone così? Allora, diciamo che questi qua sono i personaggi di gioco di ruolo che utilizziamo dal vivo Vari personaggi e così partiamo un gruppo Ma quello che sta là? Allora, con loro praticamente stiamo dando una mano a Italia in Gioco Che è un gruppo di ragazzi che sponsorizza varie tipologie di gioco di ruolo su carta E anche il gioco di ruolo al vivo Ah, vedi, ma come posso? Prego Ah, ma vedi, è morbido Sì Ah, ecco Devi simulare il colpo perché se no vai a ammazzare la gente Scusa? Devi simulare il colpo se no vai a ammazzare la gente, davvero Se me lo dai in testa non è che mi sfrantù Con questo è gioco, con quello vero è omicidio Eh, capito E' questa sottile differenza Vabbè, però dai, gliela fai, gliela fai Questi in testa sono vietati comunque Sono vietati? Questi in testa sono vietati No, sì, e quello era il bello, era Eh, purtroppo Vabbè, ma questo gioco è di ruolo dal vivo, insomma, dove lo fate? Eh, dove capita? In giro? In genere dove capita? Chi si propone di organizzare questi eventi Ci si buttiamo a capofitto Nella normalità vi buttate in qualche campagna In qualche parte isolata, insomma O ci avete dovunque va bene? No, no, dovunque purtroppo non va bene Perché c'è bisogno del permesso Non è che io mi posso buttare a mezza strada così Ah, sì, andiamo stesso E chi tanto avisce vede? Diciamo di sì, anche voi Eh, dai Vabbè, fammi, fammi Mi piace sto martello tipo alla Tor, diciamo Diciamo Diciamo, dai Allora, ragazzi Uh, come hai detto? Catra? Catra Catra Allora, ragazzi, ci vediamo alla prossima Allora, ragazzi Siamo arrivati alla conclusione di questo video E come avete visto un po' di interviste Abbiamo intervistato le mele, le maid Anche gli organizzatori e alcuni stand Beh, beh, bene, bene Oggi ci siamo un po' di interviste Un po' di rotture e palliamo Fatti un po' a gente Quindi, ragazzi Mi raccomando Ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Commentare Condividere E fare tutte le cose Che non fate mai Forse stavolta Gli affammo a falle Dai, ragazzi Ci vediamo A prossima intervista Ciao belli! 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 Grazie a tutti.